Fabiana, si temeva molto questa trasferta con un Tavagnacco che veniva da un risultato molto importante, un Verona con molte assenze, un Verona che il pericolo era che pensasse già alla Champions, invece non è stato così? Diciamo che noi abbiamo preparato bene la gara, in casa nostra abbiamo guardato le immagini del Firenze contro il Tavagnacco, abbiamo visto quali erano le loro caratteristiche, abbiamo cercato di opporsi al meglio. Certo che un po' di preoccupazione l'abbiamo avuto nel momento in cui abbiamo preso quel gol su errori nostri, questo è il nostro difetto che a volte facciamo degli errori e li paghiamo cari. Speriamo che con questa in testa ci abbiano in mente il fatto che Rosengard non ci portano ora giovedì. Sarà di Filippo, tecnico di un Tavagnacco che si era approcciato a questa partita con tante speranze, è andata male forse con un risultato troppo pesante? Sì, è andata male perché abbiamo concesso tanto, ha una squadra forte che appena vede un piccolo errore ti castiga e noi ne abbiamo fatti non piccoli ma tanto tanto grandi. Non c'è niente da dire, è giusto anche il 7 a 2 se devo essere sincera. Le ragazze poi a fine gara hanno mollato e una squadra che gioca la Champions, che punta a vincere il campionato, è giusto che vada fino in fondo.